Ehi, lo sai che è proprio bello? Ma tu guardi, è bellissimo. Ti va di fare due passi? Certo. Te lo devo proprio dire, hai dei bambini favolosi. Sì, sono molto bravi. Ma tu non puoi ancora dirlo, perché non li conosci. Come non conosci me. Ma io ci sto provando a conoscere. Lo so. Io veramente vorrei avere una vita semplice. Perfino prevedibile. Per questo ho traslocato qui. Io non amo le sorprese, non amo le complicazioni. Ma che ti è successo, Lais? Scusami, non sono affari miei, mi dispiace. No, no, non fa niente. Scusami, mi dispiace. Senti, ti posso fare una domanda, George? Quando un uomo si presenta con un cestino di pomodori, che cosa si aspetta? Una cena? No, no, no. Una speranza. Trifolium, guarda. Non c'è niente di viola nei fiori che ti ho portato. Hai sentito? Hai sentito cosa? Eh! Vieni qua, vieni a sentire. Che c'è? Senti, senti. Ma cosa? Oddio. Forse lo so che cos'è. Cosa? Posso usare il telefono? Certo. Certo, sì. A este di armo.